Aspetta un attimo, sei ancora di Matteo? Dimmi, 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 dimmi. Ma scusami, perché è Franco Armani? No, tu saresti comunque Franco Armani, giusto? Sì, io sono Franco Armani. Bravo, allora devi spiegare a Nicola, che ha pronunciato il nome di Franco Armani in vano, che quando noi ci chiedono, ci chiedono, Alison, noi cosa diciamo? No, no, Franco Armani. Buonanotte, ti voglio bene. Ciao Matteo. Buonanotte, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Grande, gli adepti che arrivano. Oh, Lele, tu immagina, noi abbiamo sentito 5-6 ragazzi, tutti preparati, tutti ragazzi. Sono preparati, bravo. È incredibile. Anto, bravo, e attenzione, non è questione...